Vaccinare è ancora vaccinare, chiudere la partita degli over 80 ma anche puntare a chiudere quella degli over 60 entro il 21 giugno. La macchina vaccinale della regione è in grado di correre, lo dice anche il commissario per le vaccinazioni, lo ricorda il presidente della regione Veneto Luca Zaia. Peccato che a frenarla sia l'arrivo con il contagocce dei vaccini. Voi potreste andare via a 25.000 al giorno, ma noi ormai siamo tarati per andare via molto più forti. Ci vogliono vaccini. In arrivo entro la settimana dosi di Pfizer, AstraZeneca e Johnson, Moderna non pervenuto, ma sono quantitativi velocemente esauribili. Io spero che il governo, che il presidente Draghi si decida a rompere quel muro che è rappresentato dal contratto europeo e di andare sul libero mercato, perché i vaccini ci sono. Dai vaccini alla ripartenza alle riaperture in fase di studio, ma gli occhi sono tutti puntati sul turismo. La stagione turistica il Veneto la conferma, poi vedremo come declinarla rispetto a tutte le linee guida eccetera. A meno che Roma non ci fermi, per noi chi ha il vaccino non ha nessun problema. Sulla discussione su isole covid free, Zaia è perentorio. Io sono a favore, la nostra si chiama Veneto. Non esiste che io vado a immunizzare una località a scapito delle altre. Se qualcuno lo vuole fare in giro per l'Italia lo fa con i vaccini suoi, non ci devono essere forniture perché vuol dire che li sottraggono anche a me. Ma è Veneto.